buongiorno a tutti torna all'appuntamento settimanale con Stefano da Empoli con l'Istituto per la Competitività con il dato e tratto buongiorno Stefano ciao Andrea Stefano un approfondimento eh partendo dai numeri oggi parliamo in particolar modo di reti di telecomunicazioni e cominciamo da una notizia che è stata diffusa in queste ore da Corcom dal giornale online eh diretto da eh Mila eh Fiordalisi che riporta i risultati di una ricerca condotta da FTTH Council eh Europe. L'Italia è seconda eh in Europa per crescita nella fibra FTTH. Un bel risultato che cosa ci dici sul nostro paese? Eh ci dice che non strutturte le difficoltà eh testimoniata insomma dalla difficoltà di posare la fibra eh anche prima diciamo dell'emergenza attuale e piuttosto che insomma eh talvolta dissidi tra tra gli operatori ehm si sta andando avanti e quindi questo è positivo ovviamente che comunque l'Italia eh è in termini di crescita insomma è il secondo paese con circa 1,9 milioni ehm di abitazioni cablate eh rispetto a 3,5 eh della Francia e sopra diciamo quella i numeri della Spagna. Ehm gli stessi dati ci danno eh però eh una lettura eh ancora non eh così positiva in termini di eh abbonamenti e quindi di uso effettivo eh delle ehm della fibra della fibra vera insomma quella più ah più veloce. Stefano continuiamo a parlare di eh reti TLC e parliamo eh in particolar modo degli ultimi dati Agicom eh aggiornati allo scorso dicembre dicembre duemila eh diciannove. Agicom stima il cinquantacinque virgola quattro per cento eh degli italiani con accessi alla rete con velocità superiore ai trenta megabit per secondo. Un altro dato positivo direi. Direi assolutamente di sì ehm per la prima volta eh nel Agicom ma certa eh che oltre la metà degli accessi avviene eh con in banda ultra larga quindi insomma con velocità superiore ai trenta megabit per secondo insomma che in qualche modo è la eh la soglia eh la 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 prima soglia insomma significativa insomma per distinguere eh connessioni veloci eh quindi nonostante diciamo la fibra insomma quella eh appunto più pregiata insomma con connessioni eh ultra veloci non sia ancora così diffusa però quantomeno possiamo dire che ehm gli italiani eh per la maggior parte eh possono diciamo contare quantomeno insomma sulla banda ultra larga che non ci deve naturalmente eh distogliere eh dal fatto che c'è ancora un venti per cento di connessione che avviene con banda inferiore eh rispetto ai dieci eh megabit per secondo e quindi insomma c'è ancora naturalmente un tema di digital divide eh di cui tener conto oltre naturalmente ad alzare insomma la media generale eh verso prestazioni eh più elevate insomma rispetto a quelle di oggi. Allora ti ringrazio Stefano eh l'appuntamento con il dato e tratto eh è per la settimana prossima buona giornata buon lavoro Stefano grazie. Grazie Grazie mille. Ciao.